Così ringrazio anche la parrocchia di Dolo, il comune e chi ce l'ha concesso perché è ispirata a un film, a una trilogia che si chiama The Matrix e che ha segnato il modo di fare i film, almeno ad Hollywood, con effetti speciali di primordine ma prima di tutto, prima di essere un buon intrattenimento e soprattutto una grande storia una opera davvero saggia e si intitola questo brano come una frase una battuta recitata nel primo dei tre film che raccoglie e sintetizza nel migliore dei modi il suo progetto, il cucchiaio non esiste Il suo progetto, il suo progetto, il suo progetto, il suo progetto Il suo progetto, il suo progetto, il suo progetto, il suo progetto Il suo progetto, il suo progetto, il suo progetto Il suo progetto, il suo progetto, il suo progetto 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 Il suo progetto Il suo progetto Il suo progetto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti